Sì, posso anche far piovere. Ecco qua, però d'avverto che se non vai piovere te fanno pagata a Bastian. Una cacciotta? No, te rombo lo culo. Tu, è nero il gatto. È nero. Allora è attraversata Stanford, tagliate questo. Tu hai scherzo. Sono successo troppo di sgredzi in questi giorni. Alto male. Cosa stai facendo? Sto toccando il ferro. È fuoco. Ma mi dite che cos'è, c'è lui? Sono state scassinate. Solo una cassetta è stata scassinata. Soltanto una, una bella fortuna. Scusi direttore, per casa è la numero 23? Sì, la 23. Scusi, ma lei lì va a 220 o a 125? Non c'è elettricità. Non c'è, vado. Sì, vado, li vedi, li vedi. Ma lei morde. Ma cos'ha lì, una tagliola? Ma lei è combinata malissimo, signora. Molto male. Ecco. Ma ha visto appena? Sapesse lui, sta peggio di lei. E ti credo che sta peggio di me. Io con le dita. Ma lui con... Posa. Posa. Paggio. Uno. Che cazzo è? Banzai. Cazzi. Ponto. Pronto? Chi parla? Senta, lei ha presente la pioggia? E allora? E allora basta un gesto dalla mia mano, perché ho dei poteri soprannaturali. E appena faccio il gesto, giù, il diluvio. Ma tu chi sei? Ah, tu sei Bago Gasperle. Io credevo che era Bernacchio per le previsioni. Posso rispondere come mi sento? Sì, ma va... Purpilo in luogo pubblico. A 328.200 lire. Ma perché tu chi sei? Che vuoi tu? Io sono nichilista. No, tu sei cassinista. Papà, perché me le tratti così? Perché? Andiamo. Perché mi stanno i panni, per grosso? Non vorrei così. E se gli viene un trauma? Ma che me ne freghi del trauma, uomo? Fermati, no, te lo devo dire. Ce l'ho sulla punta dei polmoni. Io ti odio. Hai capito? Ma un fatto di pelle. In senso epidermico? No, di pelle. Di rottura di pelle. Ma hai rotto le pelle? Ciao, Alberico, come stai? Fai bene? No. Mi fa piacere. No, volevo dire, mi dispiace, scusa. Che c'hai? Ma no, niente. È il solito radiamatore che gli fa i dispetti. Ancora? Pronto, qui pover uno, solito ascolto. Ma che parli, francese, passo? Oui, je suis de Monte Carlo, il principato di Monaco. Je suis Albert, le frère, il fratello di Caroline. Passo. Che grande emozione che me dai. Grande emozione pour un grand coillon. Com'è simpatico lei, signor secca. Ecco qua. Oh, mio. Oddio, casca di sale, portai. Non sarà mica superstitioso? No. Per carità. Occhio, malocchio. Prezzemola e finocchio. E come baptizzo, contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insaleta, mi protegge la madonna dell'ingoroneta. No, forza. Uno, due, tre. Devi fare lavorare gli aduttori. Ma la vuoi finire, sì o no? Questo esercizio farà molto bene per rotoli pancia. Dio, mia amica, c'è in fonda. Sì, ma c'è in fonda, non ha calcolato, che c'è sempre questo ricche oggelo di mezzo che mi tocca gli aduttori. Sì, ma c'è in fonda, non ha calcolato. Sì, ma c'è in fonda, non ha calcolato. Sì, ma c'è in fonda, non ha calcolato.